Buonasera a tutti e bentornati al TGD AC Milan Inside. Buon inizio settimana. Nel corso della mattinata è circolata una notizia che vedeva Theo Hernandez vicino al Bayern Monaco. Notizia che però sembra smentita, fortunatamente. La partita di ieri a San Siro contro il Genoa è terminata 3-3 e dunque siamo riusciti a portarci soltanto un punto a casa. Ma durante la partita sono successe molte cose e abbiamo visto nuovamente Giroud in rete dopo un mese di astinenza. Abbiamo visto un gol e un assist di Florenzi che si è meritato il titolo di MVP. E abbiamo visto un Leao uscire dal campo con tantissimi fischi da parte dei tifosi. Voi che cosa ne pensate? Giusti o sbagliati? Si ritorna a parlare del prossimo allenatore della panchina rosso-nera e anche Costa Curta fa il nome di Conseicao, mentre invece boccia Fonseca. Io come sempre vi ricordo che tutte quante le notizie le potete trovare sul nostro sito ufficiale AC Milan Inside. E vi invito ovviamente a commentare e a farci sapere che cosa ne pensate.